bello a tutti ragazzi sono l'alcanzio89 sono su clash royale terzo video terzo video su clash royale abbiamo subito la cassa ho trovato un bomba roll e un cannone un altro bomba un altro bomba roll poi basta lo scippino c'è qualcosa da qua 2 mila monete vabbè sì sì c'è qualcuno online dai 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 sto reccando sto reccando a saluto dolby g saez e i babbozzoni che sono stati bravi saluto soprattutto saez perché noi due stiamo facendo la gara dei 50 iscritti dice che lui arriverà un milione io non ci credo quello vedi sarò io che arriverò a milione non tu cocco vero baccarat e volevi le cose volevi volevi salato Palle Dai, dai, dai Allora Aspetta, prima un bacio No, Dijon Ma se è morti, ho messo la mamma No, no, che pezzo la metà Sacco di pizza, aspetta Sacco di pizza Sacco di pizza Sacco di pizza Sacco di pizza Dai, dai, così Chi è? Chi è? Vieni che ti sfido, ma cosa sto facendo Sta reccando Sto reccando Dai, dai, sto perdendo Sto perdendo Sto perdendo Vai, vai, vai Mannaggia 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 Viva Dai, non c'è Non c'è Vieni, vieni, vieni No, ma perchè, perchè, dimmi perchè Dai, perchè cazzo Allora, te Apparco due Beh, te pari a me C'è cosa c'è No, 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 cavallo, no, cavallo, no Morice, 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 morice Si Dai Dai, andiamo a comandare, andiamo a comandare Andiamo a comandare Apparco due No, no, se mi fai perdere madonna Erick Aspetta Vabbè, vai via Togliti Ho perso No, ho vinto Uuuu Pum, 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 pum E' schifo Aspetta, ok dai Dai, io così, sto recca, eh, sto recca Ehi, no, 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 che cazzo è sto qua? Ah, Arena 5, Arena 6, eh, vabbè Arena 5 Un cavallier Un cavallier E poi uniamo a comandare Capi? Chi cosa? Andiamo a comandare con il principe Dai che Morice Vai Morice Dai, 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 dai No Ah, pecca, va a comandare Pecca 1, 4, 4 1, 4, 4, eh Boom, no Ehi, mettiamo l'ordine di scarletti qua Dai, 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 dai Uccidere, dai Siiii Eric, tanto, non mi puoi battere Faccio schifo Ehi, faccio Ehi, sono più forte di te Pum, 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 pum Dai, mettiamo questo 88 confirmed 88 886 Vabbè, la stessa Mare Ti uccido, go bri nel cazzo Morice, male Ehi Siiii Vai, 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 vai No Mi sta chiamando qualcuno Aspettate, eh Ok, ho ripreso tutto Stavo parlando con mio papà Mi aveva chiamato che c'era tutto a posto Perché sono a casa da solo E adesso Devo riciocare la partita di Eric Perché Mi si è bugato Tra virgolette Ecco Adesso si riprende Si riprende Dall'ultima volta Dai Andiamo a comandare Dai, dai Dai Dai, Eric Eric Andiamo a sua mamma Ehi, no, no, niente Scherzo, scherzo Uccidi Soccidete Ehi, fa mo Ehi, fa mo Ehi, fa mo Ehi, fa mo Morice, morice, morice Morice, ma Ehi, è morto Ehi, fa mo Ehi, fa mo Eu гораздо Ehi, fa mo Ai Vai, vai, vai Cor 220 cazzo no 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 cazzo dai vado a comandare con i cosi al cucciolo di rogo mori c'è sì sì no porco 2 porco 2 no 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 vai vai pecca corri come un neger un neger tira ma no ma sei se mo se tra fai se devo fare un video dove mi piace sul video della crossbar challenge a 10 mi piace devo fare la partitella challenge sempre in compagnia della crossbar challenge metti capanna dei barbari a livello 4 andiamo a comandare e metti il principe quando si carica andiamo no c'è cosa no no non hai messo così capito vai 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 metti un metto un gonfiero capito capito ehi c'è cosa c'è hot black ok con le fotografie, madonna, sono cazzo mari dopo, guarda sono diventatore, no, no, prendiamo qualcosa, no, no, ne restano dieci, cosa, no, no, 86, no, no, e per questo video ci rivediamo al prossimo video, cioè, domani, oggi, lo so, oggi forse uscirà un altro video alle diciassette, sì dai, dì, vicino alle tre, alle quattro, alle cinque, vabbè ci rivediamo al prossimo video, bello!